Ciao Maria Teresa, buongiorno. Ciao Giovanni, buongiorno. Allora, parliamo un po' di te Maria Teresa. Qual è il tuo ruolo all'interno dell'azienda? Allora, io all'interno dell'azienda, come tutti, faccio un po' di tutto. Solo che negli ultimi dieci anni mi sono specializzata e concentrata soprattutto nella correzione dei difetti visivi attraverso l'applicazione di lenti a contatto. Quindi mi posso definire come la contattologa della squadra. Contattologa dell'azienda? Non avevo mai sentito questa parola e che esistesse questa professione. Certo Giovanni, la tua sorpresa mi dà spunto ad una riflessione su quanto sia banalizzato e poco conosciuto il prodotto delle lenti a contatto. Molte credono che indossare delle lenti a contatto sia come indossare un paio di scarpe. Ebbene, dobbiamo invertire questa tendenza e spiegare alle persone che prima di acquistare delle lenti a contatto si devono affidare a dei professionisti. Oggi le lenti a contatto permettono una percezione visiva completa a tutto campo e una perfetta visione periferica. Sono sempre più richieste perché oltre a rappresentare una valida alternativa agli occhiali sono una soluzione per garantire libertà ed un elevato comfort adatte a chi vuole utilizzarle per tutto il giorno, per un'occasione speciale oppure per una semplice attività sportiva. Per fare questo però, prima di indossare le lenti a contatto bisogna rivolgersi ad un professionista perché ogni persona e ogni occhio ci vuole una lentina a contatto giusta. Solo così e con poche semplici attenzioni, quale un'accurata manutenzione, un ricambio frequente, si può raggiungere l'obiettivo di una buona applicazione di lenti a contatto che per i nostri clienti vuol dire dimenticare di indossarle e vederci bene. Proprio per sensibilizzare il consumatore ad un corretto utilizzo delle lenti a contatto stiamo studiando un opuscolo che presto sarà disponibile gratuitamente presso i nostri centri ottici. Quindi possiamo dire che tutti i soggetti possono utilizzare le lenti a contatto o ci sono magari effettivamente persone che non possono utilizzare questi strumenti? Allora, per quanto riguarda i difetti visivi, diciamo che tutti i difetti visivi sono corregibili con le lenti a contatto, tra cui anche l'astigmatismo e la presbiopia. Solo che però va precisato che non tutte le persone possono utilizzare le lenti a contatto perché ci sono delle patologie oculari per le quali se ne sconsiglia l'uso. Così anche come bisogna valutare le situazioni ambientali dove la persona lavora o risiede. Approfondiamo un po' proprio questo aspetto. Spiegaci un po' più nel dettaglio qual è l'iter giusto che bisogna seguire per chi vuole utilizzare appunto le lenti a contatto, chi vuole correggere il proprio difetto visivo utilizzando le lenti a contatto. Allora, ci sono poche piccole regole da seguire. Intanto affidarsi ad un contattologo. Il contattologo fa dei piccoli esami preliminari, quali la topografia corneale, il test qualitativo e quantificativo del film lacrimale. Poi il contattologo deve seguire il cliente fino a quando non avrà imparato a mettere e togliere le lenti a contatto. Sempre il contattologo deve formare il cliente ad un uso corretto delle lenti a contatto e ad una giusta manutenzione. Deve soprattutto il cliente rispettare le date di scadenza delle lenti a contatto. E poi, riteniamola come ultima regola, ma quella più importante, devono essere fatte delle visite periodiche, così come è previsto dalla legge. Allora, per tutti quelli che portano le lenti, fate attenzione per non avere brutte sorprese. Certo, perché altrimenti, se non vengono rispettate queste piccole regole, poi si possono andare incontro a problematiche. Grazie Maria Teresa, grazie mille. Prego Giovanni, e ti aspetto per mettere le lenti a contatto. Senz'altro.